Partiamo subito con un grande applauso perché questa è la nostra grande serata, il nostro Enerjoy party a fine del nostro grande evento. È per il terzo anno che il villaggio della salute più ci ospita e siamo un insieme di scuole unite soltanto dalla passione del ballo e dalla voglia di ballare. Il progetto, la manifestazione si chiama Enerjoy, il ballo che unisce è giunto alla nona edizione quest'anno perché unisce non soltanto le generazioni ma anche i diversi stili di ballo. Quindi stasera vedete qui muoversi su questa pista del villaggio della salute più dalla country, i nostri amici di Italian Country Family che sono qui, sono bellissimi. Da Cavriago, Reggio Emilia, io saluto ovviamente anche a Robby Country, Country Tex, Country Crazy Energy e anche le Country Sister che quest'anno hanno partecipato a questo bellissimo ballo che è Over My Mind che trovate sul sito di Radio Bruno, nostro partner. Ma saluto anche, vestiti di giallo coloratissimi, i nostri Giorgio Le Magiche Fruste di Romagna da Lugo di Ravenna che loro, anche loro sono anni che partecipano con noi a questo grande evento e poi ci sono anche le ragazze di Zumba con Omar e di Ritmo Danza, bellissime. Allora iniziamo questa grande serata dedicata al mondo del ballo, ballerete con noi ovviamente ma prima vi facciamo vedere i nostri balli, i balli di quest'estate che sono state appunto dai primi di maggio fino alla fine dell'estate sul sito di Radio Bruno come i balli Enerjoy, il ballo che unisce. Vi ricordo una grande cosa che noi siamo anche in tv quindi è quello che registriamo questa sera, poi lo potrete rivedere per gli amici di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta esattamente lunedì sera sul canale 14 dalle 21.30 alle 23.30 mentre per tutti gli altri amici italiani vi ricordo Super TV qui in Emilia Romagna si trova al canale 115 ma si trova in tutta Italia quindi andate sul nostro sito poi vi dirò qual è per vederci domenica prossima siamo in tv da mezzogiorno e mezza alle 13.30 appunto sul canale 115. Per vedere tutte queste informazioni il nostro sito è www.passiesuoni.it siamo al villaggio della salute più per la festa finale di Enerjoy 2018 e partiamo un saluto grandissimo a Loris DJ il nostro grande Loris grazie, grazie, grazie Tiziana che stasera mi hai fatto ballare e che ho ballato il tuo step esatto non ho ancora capito bene come ma te la farò come sempre qui qui slow, slow e abbiamo anche l'altro DJ di Giorgio della Magica che si chiama Simone benissimo